Ci colleghiamo ora per i nostri 3 minuti di sostenibilità con Paola Vinci di The Sustainable Mag. Bentornati su 3 minuti di sostenibilità con The Sustainable Mag. Allora voliamo subito a Glasgow e addentriamoci negli ultimi giorni di negoziati tra i 197 paesi partecipanti alla 26esima conferenza tra le parti, la COP26. Si sta scrivendo la prima bozza del documento definitivo ma proprio ieri c'è stata una giornata di svolta grazie all'accordo storico che coinvolge le due più grandi potenze economiche mondiali che sono Cina e Stati Uniti che hanno annunciato un'azione congiunta, una collaborazione per sfidare la crisi climatica. E' allora un segnale molto forte non solo in termini geopolitici ma anche perché tutti conosciamo i dissapori politici e diplomatici presenti tra queste due superpotenze che a quanto pare passano in secondo piano quando si parla di una crisi molto più grande, la crisi climatica che coinvolge il nostro pianeta, tutti noi e le future generazioni. Pensate anche che questi due paesi sono i paesi che emettono il maggior numero di emissioni di gas serra al mondo e fino a ieri la Cina non aveva sottoscritto alcun accordo che riguardasse la riduzione dell'impiego del carbone ma anche la riduzione delle emissioni del metano quindi insomma è ancora più significativo questo accordo. Passiamo a un'altra rivoluzione che questa volta coinvolge il packaging alimentare, infatti l'inificio Canapificio Nazionale in collaborazione con Cucu International Packaging ha sviluppato una soluzione sostenibile per andare a sostituire tutte quelle retine che avvolgono frutta e verdura nei supermercati. Retine di plastica che spesso non vengono raccolte e riciclate, che sono altamente inquinanti, che rilasciano microplastiche che poi rientrano nella catena alimentare e si spargono nelle acque dei mari e degli oceani. La soluzione sarebbe quindi di sostituirle con delle retine realizzate in lino. Pensate che per realizzarle si possono utilizzare gli stessi strumenti e gli stessi macchinari utilizzati per creare le retine in plastica. Con la differenza che il lino è un materiale naturale, biodegradabile, che tra l'altro impiega molta poca acqua durante la sua cultura e anche un numero davvero ridotto di agenti chimici. Passiamo ora all'ultima notizia, una bellissima notizia, infatti il noto brand di Beachwear sostenibile CY, brand Vicentino, ha ottenuto la certificazione B Corp, una certificazione molto importante. Ricordiamo che al mondo ci sono solo 4.000 aziende certificate B Corp, di cui 120 sono in Italia. Pensate che CY ha ottenuto il punteggio di 107, diventando il brand di moda italiana con il punteggio più alto all'interno del movimento B Corp. Quindi una bellissima notizia e auguriamo un grosso in bocca al lupo a tutto il team.